E' stata praticamente una partita fotocopia dei quarti di finale contro Giulianova in cui in casa nei primi due quarti non siamo praticamente scesi in campo. E' un aspetto mentale che bisogna cercare di capire, di risolvere perché non va bene regalare due quarti all'altra squadra per poi cercare di recuperare, di rimontare con tante difficoltà. In strada facendo abbiamo fatto tanti errori soprattutto a livello offensivo dove abbiamo sbagliato tanti canestri facili anche da sottocanestro. Canestri che potevano essere importanti per cercare di ritornare quantomeno ad avere un gap minore per poi giocarcela a Firenze con un punteggio più fattibile. Dobbiamo cercare di leccarci le ferite per cercare di mentalmente quantomeno di recuperare la condizione mentale per entrare con lo spirito giusto. Magari un'altra sconfitta a livello psicologico come questa in cui abbiamo regalato i primi due quarti può essere importante per cercare di capire che non bisogna ulteriormente commettere questo errore perché potrebbe essere fatale anche in Euro Cup.